ciao a tutti ragazzi da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti benvenuti a un nuovo appuntamento con racing time tg notte vi avevo promesso una puntata dove avremmo avuto il contributo e ce l'abbiamo del nostro ingegnere aerospaziale marco iurlandino iurla o niurla come volete chiamarlo chiamatelo però il come dire cambiando il nome non cambia il risultato è davvero eccezionale e poi vi dirò di più vi dirò di più su una parte delle robe di cui discuteremo in questa puntata domani mattina avremo il preziosissimo contributo di giacomo rizzitelli un contributo fatto dalle spiegazioni di un ragazzo che davvero ci fa capire tutte le modifiche l'aerodinamica è tutto come se stesse spiegando la cosa più semplice del mondo bene quindi iniziamo subito questa puntata dove ho un po di robe da farvi vedere dove poi lasceremo parlare il nostro marco con l'analisi interessantissima ragazzi delle fp2 perché abbiamo quattro team che mai come in questa gara sembrano essere tutti lì tutti pronti a darsi battaglia e la la ferrari ha fatto dei progressi l'han detto i piloti gli aggiornamenti funzionano quindi ci si aspetta che possano funzionare anche in piste un po più probanti hanno cambiato veramente tanto ve lo faremo vedere in questa puntata però ragazzi ci si aspetta pure una mclaren una mercedes con un po di punto interrogativo perché molto è legato a centrale per loro questa finestra strettissima di setup di funzionamento che hanno ma soprattutto ragazzi io mi aspetto una red bull molto forte soprattutto in gara perché oltre a stappen il long run di perez è stato buono non l'abbiamo tenuto nei radar completamente però ha fatto un buon long run soprattutto considerando quelli che sono i suoi standard quindi io dico una cosa che su questa pista veloce la red bull può dire la sua come al solito aggiungerei però prima di andare a iniziare questa puntata arriva un pacchettino ancora per il mio compleanno pensate un po ce lo manda gianni baini il nostro mitico gianni baini e lo voglio aprire in diretta con voi quindi è bello fare queste cose veramente e poi grazie siete veramente troppo gentili e troppo buoni con me c'è un cofanetto ragazzi non ho idea di cosa si possa trattare tiriamo via allora facciamo così lo apro verso di voi wow airton la spilla di airton che bella che bella che bella grazie originale airton senna è che spettacolo grazie grazie gianni un bacio grande anche questo un altro regalo meraviglioso grazie di vero cuore allora iniziamo con le notizie innanzitutto non so se avete sentito ragazzi antonelli è finito fuori con un impatto che ha avuto una decelerazione di 52 g veramente una roba notevole quindi cioè voglio dire debutto potremmo dire col botto per due ragioni uno entra al primo giro ti stampa il miglior tempo e questo lo fanno solo quelli veramente bravi poi però è esagerato un po e ha stampato la vettura contro le barriere della curva al boreto ora io sono straconvinto me l'avete chiesto in tanti che questo non influirà minimamente in quello che sarà la sua carriera in mercedes poi andiamo avanti parliamo di ferrari perché abbiamo detto una vettura che ancora si deve comprendere le parole dei piloti sono positive lecler dice che gli aggiornamenti funzionano però c'è da sistemare un po il bilanciamento che cos'è il bilanciamento è il far andare d'accordo e avere una vettura più neutra e pulita possibile quindi far andare d'accordo i due assi quello anteriore e quello posteriore non è sempre facile in formula 1 è ancora più difficile da quando le vetture sono molto lunghe è diventato ancora più difficile da quando c'è l'effetto suolo perché in maniera naturale queste vetture nascono sotto sterzanti sul lento e sovra sterzanti nel veloce e quindi andare a diminuire questi due difetti ti dà in mano una vettura che dà fiducia al pilota e di cui il pilota si fida e quindi può spingere per chiedergli quel qualcosina in più la cosa positiva è che ha confermato anche lui anche vasser l'assenza di pompaggio aerodinamico questo è molto positivo però anche qui bisognerà andare a centrare la finestra giusta oggi vedo un filino come dire ecco mi preoccupano un pochino esattamente come ha detto lui red bull e mclaren ma non escluderei neanche la mercedes ripeto si prevede una gara con quattro team molto vicini poi andiamo a guardare un attimino il foglio della fia tra l'altro manca la voce numero 9 ma perché ve lo faccio vedere perché guardate quante vocine ci sono in questo foglio una roba veramente notevole direi questo a conferma di quanto ha cambiato la ferrari e di fatti e di fatti se cambiamo schermata guardate qui tutte le zone dove c'è stata una modifica allora un po come abbiamo detto più volte in questi giorni alla posteriore diffusore lo vedremo tra un attimo poi posizionamento delle telecamere il quarto elemento dell'ala anteriore guardate qui hanno segnato due robe ovvero e gli specchietti quindi micro aerodinamica stavolta i commissari come ho detto nella diretta sono stati veramente molto minuziosi quindi quella modifica fatta qui dove è sparito un deviatore di flusso e poi qui con tanto di descrizione in questa pagina qua andate vi tolgo la manina se volete vi fate il fermo immagine ve l'andate a leggere in particolare mi concentrerei su questa voce qui allora in questa zona qui hanno cambiato davvero parecchio è una cosa che hanno cambiato in maniera adesso si può dire molto molto minimale ricordate il mio gesto vi ho detto sapevo come dirlo ovvero l'accoppiamento tra quello che c'è sopra e quello che c'è sotto sono riusciti ad avere un leggerissimo una leggerissima differenza nella zona del sottopancia per aumentare aumentare quello che si chiama undercut sotto squadro tutto questo perché c'è intenzione a cambiare un po i flussi che arrivano in una zona nevralgica della della vettura effetto suolo cioè appunto quelli che camminano sopra il marciapiede del fondo e che in parte vanno anche da sopra orientati verso questa zona poi abbiamo come dire siamo andati avanti però qui voglio fare una piccola premessa allora causa impegni di lavoro e poi non vorrei che il video venisse troppo lungo volevo far fare questa parte del diffusore del marciapiede dei fans dei fans come li chiamano cioè i bracci le lame che vengono fuori a prendere aria al nostro giacomo rizzitelli che ci sta lavorando però non c'è arrivato in tempo per questa puntata quindi una maggiore spiegazione adesso facciamo solo un piccolo accenno di quello che è il marciapiede e di quello che è soprattutto la zona del diffusore che è cambiata tantissima tantissimo appunto domani mattina la vedrete in un video apposito condotto dal nostro giacomo rizzitelli il nostro mago dell'aerodinamica quindi niente aspettatevi anche questo tipo di video anche perché onestamente c'ho tanto tanto piacere che questa spiegazione tecnica la faccia lui comunque vi voglio far vedere brevemente cosa cambia cambia innanzitutto vedete qui i due coltello sì queste piccole lame ecco queste sono la fine dei due deviatori di flusso i fence che percorrono il fondo e poi escono appunto lateralmente nella versione vecchia erano molto più spostati verso questa zona del fondo dove poi c'è questa piccola saracinesca questo piccolo anellino ecco che poi questa non è una saracinesca ma è un generatore di vortice per capirci se ci fate caso tiriamo una linea dritta sono sotto il marchio shell tutte e due invece evidentemente è cambiato di tanto il percorso dei deviatori di flusso sotto la monoposto perché nella versione di monza quindi la versione del fondo che arriverà fino a fine stagione o perlomeno il grosso questo sarà se tiriamo una linea dritta il marchio shell è molto più indietro quindi diciamo che l'uscita è stata parecchio anticipata poi cambia nella zona degli anellini ma soprattutto andando nella foto di destra cambia l'orientamento l'ondulazione che c'è qua con una un cammino una linea che tiene il marciapiede in questa zona estremamente diversa e qui come potete vedere manca del materiale qui si genera una zona di vortici molto molto potente ma anche questa zona è soggetta a tante pressioni tante flessioni tant'è che gli anellini di ritenzione qui che come vedete questi anellini in metallo sono stati posizionati in maniera un po' differente tutto il resto della spiegazione in merito a questo discorso qua ve lo farà il nostro giacomo rizzitelli inoltre diamo una breve occhiata al diffusore tirando fuori la manina allora questa in basso ragazzi è la versione che ha corso fino all'olanda guardate il diffusore che forma qui e quanto invece sia molto più stretto in questa stessa identica zona è cambiato veramente tanto così come è cambiata la zona della chia anche nella parte finale comunque anche per queste spiegazioni ci sarà il nostro giacomo trovo carino giusto e corretto farle fare a lui vi dico semplicemente che in ferrari hanno ricercato un diffusore un estrattore ancora più efficiente ancora più potente in modo appunto da allontanare una volta per tutte questo pompaggio aerodinamico sarà molto più bravo di me nell'esporvi la cosa il nostro giacomo poi velocemente prima di passare la parola a marco per le sue analisi guardate qui questa telecamera è spuntata in fp1 in casa mclaren però si tratta di un qualcosa di interno al team che ha orientato al posteriore a quanto pare la telecamera per vedere forse quelli che sono i movimenti dell'ala posteriore infine guardate qui curva parabolica o michele alboreto anzi è michele alboreto perché adesso così si chiama c'è questo monumento in ricordo del mitico michele bene ragazzi adesso vi rinnovo l'invito iscrivervi al canale sia questo che selezione tv 2 a lasciare un like e un commento per questo video noi ci vediamo domani mattina col video di giacomo adesso vi lascio alle parole del nostro mitico ma veramente mitico marco iurlandino ciao e buona visione ciao a tutti i ragazzi da marco iurla dalla selezione nazionale piroti oggi analizziamo le fp2 analizziamo qualche grafico delle fp2 per capire soprattutto confronteremo leclerc contro norris quindi per capire la bontà di questa ferrari nel tempo della velocità sicuramente una ferrari abbastanza positiva ci aspettavamo una ferrari che potesse ritornare a competere per il podio per lo meno comunque per la vittoria in base alle dichiarazioni fatte nei giorni precedenti al momento sembra essere una ferrari che può esprimere ancora il suo potenziale partirei sarò molto veloce partirei dalle top speed che hanno fatto registrare i piloti nel loro giro più veloce è importante questa volta partire di qui perché siamo nel tempo della velocità quindi la top speed è importante nell'arco del giro certo non è sufficiente però comunque è il tempo lo si fa anche nel nei lunghi rettilini quindi vediamo come leclerc abbia raggiunto una velocità di 347 chilometri orari ben 4 chilometri orari in più rispetto alle proprie libere 1 quindi questo vuol dire che da che ferrari ha aumentato leggermente la potenza del motore rispetto alle proprie libere 1 mentre la mclaren è rimasta più o meno su quei livelli di mappatura motore norris e 345 molto simile appunto ai alla velocità raggiunta nel corso delle pl1 quindi vuol dire che la mclaren ha ancora qualcosina un po da da spremere nelle qualifiche di motore infatti quindi partirei innanzitutto ecco dalle dai da dai lap time ideali quindi dai dai dal tempo ideale se mettiamo insieme i migliori settori di ciascun pilota questi qui sono i migliori settori di ciascun pilota ecco che arriva se arriva la conclusione che piastri sarebbe primo rispetto a rispetto a ad amilton quindi se piastre avesse messo insieme tutti i pezzettini avrebbe fatto un tempo migliore rispetto a quello di amilton mentre le ferrari sono lì appunto a due decimi circa da da piastri quindi ho messo a confronto norris con leclerc il listacqui di circa un decimo e mezzo che più o meno lo paga tutto nel secondo settore perché appunto nel secondo settore paga a 133 millesimi eh charles claire ehm ed è proprio questo settore qui eh quello che va da da curva 4 quindi dalla roggia a alla scari a poco prima dell'inizio della scari eh quindi praticamente comprende la variante della roggia curva 6 e curva 7 ovvero l'esmo 1 e l'esmo 2 ed è proprio qui che eh leclerc perde qualcosina lo capiamo anche dal delta vedete il delta come schizza la curva 6 e curva 7 ehm è una curva dove leclerc ha fatto leggermente più difficoltà nel in tutti i suoi giri in realtà la la vettura è sembrata molto ben bilanciata eh composta nei cambi di direzione eh tuttavia in questa in queste curve lo vediamo anche da da come utilizza l'acceleratore in curva 6 e curva 7 ehm leclerc ha voluto essere leggermente più aggressivo rispetto a norris eh lasciando una certa quantità di acceleratore in centro curva eh quindi nel momento in cui percorreva la curva e questo ovviamente questa aggressività porta ad andare eh full gas leggermente ritardo rispetto a norris vedete anche dei microsettori come in uscita di curva anzi a centro curva in uscita di curva norris ehm riesca a guadagnare qualcosina sul sul periodo a monegasco anche vedete qui eh ingrandisco in uscita di curva 6 quindi dall'esmo 1 vedete come la curva di accelerazione di norris ehm si eh come dire si costruisca prima rispetto a quella di di leclerc che tra l'altro in centro curva paga 6 km orari ehm in meno rispetto a a norris come vi ho detto tra l'altro mappatura del motore ferrari che non è al massimo indubbiamente ma leggermente più spinta rispetto a quella mclaren lo vediamo dalla velocità di punta in ogni rettilineo ferrari a a partire dal primo rettilineo 2 km orari in più secondo rettilineo 5 km orari più in più terzo rettilineo 3 km orari in più eh rettilineo della parabolica addirittura 4 km orari in più ma sembra anche che eh mclaren soffra leggermente di eh di clipping ovvero a fine rettilineo non ha la quantità di energia sufficiente per mantenere velocità alte almeno così pare dalle dalle telemetrie eh infatti vedete a fine rettilineo è sempre la ferrari che predomina mclaren è molto forte in trazione eh lo vediamo da questa immagine relativa ai alle forze G eh longitudinali qui ehm è anche molto forte in frenata mclaren perché abbiamo che qui in basso ehm sono le forze G raggiunte in frenata e vedete come mclaren raggiunga forze G più elevate sintomo di una miglior frenata quindi una miglior decelerazione una decelerazione che avviene in un tempo minore rispetto a quello della Ferrari per più volte rispetto alle Claire. Le Claire sappiamo tra l'altro che è probabilmente uno dei più grandi staccatori eh in frenata di tutta la griglia eh e infatti quest'oggi in prove libere uno non è un caso che si è lamentato più volte ehm che sentiva che la macchina aveva una decelerazione scarsa povera ehm e questo è stato confermato anche dai box che hanno detto ok hai ragione ehm però sappiamo già come risolvere questo per la prossima sessione e infatti questo in realtà è stato risolto eh nel corso delle prove libere due nel senso che le Claire non si è più lamentato di questo problema all'engine braking quindi al al freno motore eh tuttavia la frenata non è sembrata essere ottimale ehm lo lo confermiamo appunto anche da questi dati in trazione è bene la Ferrari benissimo anche la la McLaren ma benissimo appunto anche la Ferrari e ehm volevo far vedere anche una tecnica di guida utilizzata da Norris ma che abbiamo visto lungo tutta la stagione in realtà perché Norris ci ha abituato nel staccare leggermente prima rispetto al punto di frenata o comunque rispetto a dove frenano gli altri o dove alzano i piedi degli altri lo vediamo in entrata della roggia è in entrata della parabolica vedete come Norris preferisca sacrificare l'entrata per poi massimizzare l'uscita eh vedete appunto è in entrata della roggia sacrifica l'entrata i microsettori sono a favore di Leclerc per massimizzare l'uscita vedete ancora lo si vede ancora meglio qui alla parabolica vedete come massimizza eh o meglio eh sacrifica l'entrata Lando Norris per poi massimizzare appunto qui in uscita eh della parabolica andando leggermente prima sul gas e lo capiamo bene appunto della parabolica come leggermente prima vada sul gas Norris alzando il piede decisamente prima. Ehm ultima cosa eh ci soffermiamo sul comportamento della Ferrari in curva otto nove dieci ovvero la Scari questo qui. Ehm questa parte di circuito è sicuramente una parte che ci si aspettava che la Ferrari potesse soffrire prima di questi aggiornamenti. Questi aggiornamenti sembrano far riprovare ai due piloti Ferrari quel carico quindi quella fiducia tale da percorrere queste curve che si percorrono ehm a 180, 200, 250 km orari con una certa fiducia fiducia che non è completamente al massimo ma sicuramente lo sarà nel corso delle qualifiche perché l'ecler ha dovuto alzare come vedete qui da questo lift piccolissimo ha dovuto alzare leggermente il piede eh per mancanza di fiducia in inserimento eh tuttavia è praticamente inesistente infatti percorre questa curva in maniera ehm abbastanza egregia quindi non si comporta affatto male ehm percorrenza della Scari da Ferrari e infatti nel terzo settore eh i tempi sono pressoché simili perde circa ventimillesimi anche qualcosina il mio quindicimillesimi eh Charles Leclerc rispetto a a Lando Norris quindi il terzo settore che è composto dalle curve a Scari e dalla parabolica quindi curve in appoggio dove si pensava potesse soffrire di bouncing la Ferrari ma il bouncing non si è visto una buona Ferrari quindi sicuramente il setup forse è da rifinire leggermente anche eh prima che ci fosse la bandiera rossa causata da Magnus e nell'Eclerc aveva chiesto due clic in più all'anteriore e anche Sainz questo quindi vuol dire che ancora qualcosina del setup bisogna aggiustarla tuttavia i piloti sembrano molto più in fiducia rispetto a a alle gare precedenti questo però non toglie il fatto che Red Bull McLaren neanche Mercedes che però è quella con il motore più spinto rispetto a tutti se non lì a lottare eh per la pole e per la vittoria. Detto questo io concludo qui il video vi saluto eh vi ricordo di lasciare like commento di eh di seguire il canale questo e anche Yellowskill dove faremo la diretta domani per FP3 e per qualifiche quindi vi aspettiamo numerosi eh predirette di domani sperando di esultare per una pole rossa. Ciao. Fermi tutti fermi tutti non ve ne andate lo so non me l'aspettavo neanche io però purtroppo ho questo brutto bruttissimo vizio di dimenticarmi alcune cose da farvi vedere che sono in scaletta quindi eccomi qua di nuovo. Allora abbiamo parlato di questo undercut di questa zona del sottosquadro un po' più ricercata ma parliamo veramente di pochissimo ragazzi di veramente poco ebbene ve la faccio vedere eccola qui vedete allora questa è e voi stessi vi potrete rendere conto quanto poco poca sia la differenza questa qui questa versione questa foto sopra è la versione di Zambort cioè quella che ha corso praticamente fino ad adesso qui come potete vedere in questa zona è un po' più scavata in questa zona poco pochissime poi c'è un filino di scavatura qui in corrispondenza del nastro giallo selezione ma è veramente pochissimo ragazzi è veramente poco una leggera un leggero scavo lungo tutta la zona della pancia bassa come potete vedere che arriva qui e finisce in questa zona qui che favorisce un cammino dei flussi aerodinamici lungo la monoposto più efficiente che va verso il posteriore verso la zona della bin wing dove poi troverà anche i flussi che vengono tirati fuori dal diffusore abbiamo spiegato tante tantissime volte come funziona tutto tutto questo discorso e anche da questa foto si notano come le lame giriamo un attimino le lame dei deviatori di flusso che ci sono dei fans dei di quei bracci che escono verso fuori non so bene come definirli li chiamiamo sempre in maniera diversa siano molto più verso l'inizio del fondo quindi vanno come dire ad aumentare la tenuta già a velocità un po' cioè detta così non è proprio corretta comunque rendono la vettura più efficiente già a velocità un po' più basse rispetto a prima quindi più tenuta già a partire da velocità un po' più basse e grazie al miglioramento dei canali cioè di tutto il fondo e della zona del diffusore comunque questa efficienza maggiore che arriva prima non viene pagata poi con un pompaggio aerodinamico che a sua volta dovrebbe arrivare prima perché appunto la monoposto è migliorata in altre zone ecco non potevo non farvi vedere questa foto quando mi sono accorto che era lì scaletta e non era stata vista e non potevo non dirvi questa cosa a fine video alla fine è venuto un mega video di 26 minuti pazienza ce lo teniamo e domani ci sarà l'altra anzi proprio il capolavoro a livello tecnico che farà il nostro giacomo rizzitelli tra l'altro abbiamo imparato una cosa in più perché questo è il fondo questi sono gli specchietti oggi sappiamo che questa zona qui riguarda cioè questa questo segnale qui riguarda il sottosquadro la zona di congiunzione tra la pancia e ciò che c'è sotto bene ragazzi adesso ciao per davvero ci vediamo domani